la fascinante opera l'imperatore giustiniano nella basilica di san vitale a ravenna è un capolavoro che incarna la grandezza dell'impero bizantino e il suo linguaggio figurativo unico questa basilica è un simbolo dell'influenza bizantina in italia specialmente a ravenna che nel sesto secolo divenne la sede dell'esarca di costantinopoli dopo il trasferimento della capitale da roma a bisanzio nel 330 d.c. e la divisione dell'impero romano nel 395 d.c. nacque l'impero bizantino questo nuovo impero sviluppò un linguaggio figurativo distintivo influenzato da elementi ellenistici siriani persiani ed egiziani che persistette fino alla caduta di costantinopoli nel 1453 l'italia in particolare ravenna divenne un punto d'incontro tra la cultura occidentale e le tradizioni artistiche bizantine i mosaici nella basilica di san vitale sono un esempio straordinario di come l'arte bizantina abbia arricchito il panorama artistico italiano mescolando le forme espressive orientali con quelle tardo imperiali e cristiane il mosaico di giustiniano è celebre per la sua maestosità e per il suo stile che trascende la realtà quotidiana per esaltare il divino e l'imperiale nella rappresentazione giustiniano e i suoi dignitari sono simboli di potere spirituale temporale elevati oltre la condizione umana l'uso del mosaico con i suoi colori brillanti e i suoi effetti di luce crea un'atmosfera quasi soprannaturale ideale per rappresentare la sacralità e l'autorità imperiale nascono figure rigide piatte stilizzate quasi sempre ritratte di fronte con la fissità dello sguardo da cui non traspare nessun sentimento particolare le figure sembrano astratte lontane con assenza di rilievo di chiaroscuro di prospettiva il fondo d'oro crea un'atmosfera irreale questo ritratto non è solo un'opera d'arte di notevole valore estetico ma è anche un documento culturale che riflette la complessità delle dinamiche politiche e religiose dell'epoca il mosaico serve come un potente promemoria dell'importanza di ravenna come uno dei centri vitali dell'arte della cultura bizantina fuori dall'impero orientale occorre visitare la basilica di san vitale per ammirare questo incredibile mosaico e immergersi nella storia e nell'arte bizantine che hanno plasmato non solo ravenna ma anche l'intera regione mediterranea questo mosaico rappresenta un'eccezionale testimonianza della ricca eredità bizantina in italia e offre una prospettiva unica sulle interazioni culturali del passato iscriviti al canale lascia like e condividilo con i tuoi amici ti invito anche a visitare il mio negozio un saluto e al prossimo video di arte esplorando